E' cresciuta la sicurezza ma anche la percezione che ne hanno i cittadini che hanno collaborato con le forze dell'ordine. In estrema sintesi è questo il bilancio di un anno di lavoro contro la criminalità. Stilato dal questore di Salerno Giancarlo Conticchio che questa mattina per un brindisi augurale ha incontrato la stampa in numeri alla mano, ha raccontato come sia cresciuta la risposta e la garanzia di sicurezza, grazie anche alla sinergia tra le altre forze dell'ordine e le autorità giudiziaria, ha sottolineato. Tra gli esempi citati il numero delle persone controllate passate dalle 44.000 del 2021 alle 53.000 del 2022, così come il numero dei denunciati cresciuti di 200 in più nel 2022 rispetto ai 1.000 del 2021, segno che sono stati commessi più reati ma che ne sono anche stati scoperti altrettanti. Signor questore nel bilancio di quest'anno lei ha detto chiaramente è aumentata la percezione di sicurezza anche grazie all'esercizio che è stato fatto sui controlli. Sì, non solo è aumentata la percezione della sicurezza ma è aumentata proprio la sicurezza. Noi abbiamo investito parecchio sul controllo del territorio quindi aumentare la prevenzione vuol dire evitare la commissione di reati. Devo dire che a Salerno e provincia questo è un dato positivo che mi sento di comunicare. I numeri parlano chiaro anche dello strumento utilizzato dalla questura, quella del DASPO che ha funzionato in più ambiti dalla violenza negli stadi alla prostituzione e fino anche contro i parcheggiatori abusivi. Sì, abbiamo incrementato questo tipo di attività che è una misura di prevenzione. La legge ci dà questa possibilità, dà la possibilità al questore di emettere questi provvedimenti e devo dire che sia per quanto riguarda i parcheggi, per quanto riguarda la violenza negli stadi e anche per quanto riguarda l'attività di prostituzione abbiamo avuto importanti risultati. Chiedere un'ultima cosa in merito al concetto che lei ha detto. Garantire la sicurezza, investire sulla sicurezza significa anche portare ricchezza perché l'imprenditore che si sente sicuro investe su questo territorio. È importante, è un mio obiettivo, è proprio questo. Per aumentare la ricchezza di una provincia, la ricchezza economica di una provincia, occorre investire sulla sicurezza. Noi stiamo investendo sulla sicurezza di modo che l'imprenditore, chi ha intenzione di aprire un'attività economica in questa provincia, possa sentirsi sicuro perché la squadra Stato c'è ed è presente.